Appassionati di tecnologia, questo è un AirTag, anche questo è un AirTag e anche questo è un AirTag. A che cosa serve fondamentalmente un AirTag? Un AirTag è un dispositivo della Apple che vi serve fondamentalmente per andare a rintracciare i vostri oggetti sfruttando una rete creata da Apple. Potete andarlo ad inserire all'interno di un portachiavi oppure potete andarlo ad inserire all'interno di un portafoglio o semplicemente potete andarlo a inserire all'interno di una valigia o di un trolley o semplicemente di un vostro zaino. Questi dispositivi funzionano soltanto con l'ecosistema di Apple e infatti quando dovete cercare il vostro dispositivo vi basterà aprire l'applicazione dove è e lui precisamente vi dirà con precisione millimetrica dove si trova il vostro oggetto. E' possibile fare la stessa cosa anche su Android? No non con questi dispositivi potete integrarlo in home assistant avete visto la guida effettuata da Luigi ma se state cercando un dispositivo che può funzionare anche con Android ci viene in soccorso la find car di Saint Son che attraverso la sua app specifica per dispositivi Android quindi scaricate dal Play Store di Google potete andare a farla funzionare esattamente come si fa direttamente dall'app find my di Apple. Find my di Apple perché si integra anche nel find my di Apple quindi nella funzione trova i miei oggetti. Insieme alla confezione ci arriva anche questo fantastico travel wallet che non è altro che un porta passaporto dove andare a inserire le vostre sim internazionali magari se non avete l'isim quindi avete a disposizione delle sim da comprare nel paese in cui state andando qui il vano per mettere alcune card documenti vari e appunto il passaporto. Mettiamo da parte questo travel wallet che comunque è di una bella qualità e noi ringraziamo 6xon e andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questa confezione perché troviamo adoro questo packaging adoro questo tipo di fare le confezioni con questo libricino a fisarmonica ma guardiamo un po' il pezzo forte ecco qui quando si apre ci viene mostrata immediatamente l'oggetto in realtà ne sono due perché troviamo da questa parte la card che praticamente è poco più grande di due carte messi insieme di due carte di credito due carte di identità una patente insomma codice fiscale esattamente il doppio dello spessore ma ha una particolarità a differenza di questo dove andremo a dover sostituire la batteria almeno una volta all'anno qui abbiamo la possibilità di andarlo a ricaricare vi faccio vedere anche l'altro dispositivo che arriva in confezione perché anche qui c'è una chicca fantastica stessa possibilità di andarlo a caricare attraverso questi due connettori posti qui da questa parte e qui c'è questa in questo piccolo forellino dove potete andare a inserire un laccettino e magari metterlo appeso in uno zaino in un trolley e sempre attraverso il dispositivo find my sfruttando appunto l'ecosistema apple potete andare a trovare i vostri oggetti localizzare i vostri dispositivi non è finita qui perché sempre in questa fantastica confezione molto ben organizzata molto ben disposta troviamo anche il connettore in realtà ce ne sono ben due per andare a ricaricare il vostro dispositivo vi basterà infatti andare a sfruttare un qualunque cavo usb c che andrete a posizionare da questa parte qui sul connettore e poi proprio pinzare vedate che è a molla pinzare la parte qui sotto ci sono dei connettori e andare a pinzare qui dopo di che si avvierà la ricarica del dispositivo con questo pulsante andrò a accendere e spegnere qualora appunto dovesse servirmi la necessità di andarla a spegnere il dispositivo di localizzazione andiamo a connettere il cavo usb c guardate che carina questa animazione con tutte quante le lucine led che si accendono e andiamo a collegare il nostro dispositivo qui appunto andrà a mettere in ricarica la nostra card stesso discorso vale anche per la card più grande sentite un suono ci dice che sta andando in ricarica e questa animazione ci fa vedere appunto che sta avvenendo la ricarica è un concentrato di tecnologia perché da questa parte troviamo anche un led magari è verde quindi probabilmente in questo caso ci dice anche già che è carico se la luce è verde vado ad accenderlo così lo vado a configurare nel sistema trova entra tranquillamente in un portafoglio quindi viene fuori con le vostre card sta veramente molto bene molto comodo tra l'altro ha anche la funzione r feed per andare ad aggiungere un altro dispositivo mi basterà andare appunto nella parte più e dire aggiungi un altro oggetto quindi a questo punto lo auto localizza mi basterà tenere premuto per qualche secondo il pulsante ed ecco qui praticamente è stato immediato e vado a connetterlo inserisco un nome documenti visto che magari lo voglio usare con il mio passaporto quindi lo chiamerò documenti ecco qui continua gli vado ad abbinare anche un emoji e il gioco è fatto quindi da questo momento in poi andrò grazie anche al fatto che vado ad aggiungere il mio numero di cellulare qualora appunto dovesse essere smarrito se la persona che lo ritrova di buon cuore vuole andare a restituirlo potrà farlo contattandomi con il messaggio che visualizzerà ecco qui posso vedere la batteria residua facciamolo suonare quindi se l'ho smarrito sentite indicazioni si localizzerà perfettamente sulla località dove appunto è stato rilevato l'ultima volta comunque ogni qual volta ci sarà uno smartphone che passerà a fianco a lui verrà condivisa la posizione ovviamente la stessa cosa vi basterà farla con un dispositivo android quindi vi basterà andare ad inquadrare il qr code che vi rimanda al play store per andare a installare l'app di sanxon e quindi abbinare il dispositivo al vostro android e sfruttare così l'applicazione del produttore per andare a localizzare la vostra card il materiale molto resistente e ben realizzato devo dire che sono molto molto soddisfatto di aver riportato questo prodottino sul canale di missing tech veramente molto molto bello molto originale ma soprattutto molto utile nel suo phone factor che si adatta benissimo a stare anche nel portafoglio o in un porta documenti come è questo qui se lo avete provato fatemelo sapere qui sotto nei commenti io vi lascio il link al sito del produttore perché ci sono diverse colorazioni quindi potete andare a scegliere anche dei colori che vi piacciono di più come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao affascinati